Operazione della squadra mobile di Pescara in collaborazione con la polizia della Romania e dell'Interpol contro un racket della prostituzione nella cittadina adriatica con un giro di affari di almeno 50.000 euro al mese. Dopo sei mesi di ricerche sono stati rintracciati e arrestati due romeni marito e moglie colpiti da mandato di arresto europeo e latitanti dopo un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione condotta nell'ottobre scorso sempre nella città abruzzese. I due arrestati sono Angel Dimitru Cornell, 28 anni, e Angel Bianca, 22. L'indagine è sotto la direzione della procura della Repubblica di Pescara e del PM Andrea Papalia. Gli altri due indagati sono destinatari di analoga misura restrittiva Adriana Pasca, romena di 22 anni, arrestata a Pescara nell'ottobre scorso e ora con obbligo di dimora, e Michele Colalè, pescarese di 39 anni, ancora latitante. Colalè era stato già arrestato per reati analoghi in un'operazione della mobile nel 2011. Ai quattro è contestata associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Secondo gli inquirenti, Angel Dimitru Cornell e Michele Colalè erano elementi dell'associazione e si occupavano di reclutare all'estero giovani romene, mentre le due donne avevano ruoli esecutivi e di raccordo. Le indagini complesse avviate nell'estate del 2014 hanno portato allo scoperto un fenomeno criminale per il controllo e la spartizione del territorio, destinato all'esercizio della prostituzione nella zona sud di Pescara e all'interno della pineta d'Annunziana. Era basato sul pagamento di una sorta di tassa di occupazione da parte delle prostitute che venivano minacciate e picchiate in caso di rifiuto, riscontrate e documentate molte rimesse di denaro in Romania attraverso il cicculto del money transfer. Altre sei persone, quattro romeni e due italiani sono state indagate per estorsione.